Nonostante prosegua l'ormai lungo periodo di crisi per il manifatturiero e l'oreficeria, Arezzo rivendica la sua identità di città dell'oro, per rilanciare il proprio nome in ambito imprenditoriale, ma anche turistico e culturale. Si è creata così una rete di istituzioni, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fraternità dei Laici, Camera di Commercio, Arezzo Fiere e Consulta Orafa, che darà il via ad una serie di iniziative concrete, a partire dal Museo dell'Oro, frutto delle collezioni d'arte accumulate negli anni, soprattutto in occasione delle fiere di settore. L'esposizione permanente sarà ospitata nelle sale del Palazzo di Fraternita, in Piazza Grande, dopo necessari lavori di messa in sicurezza. Il Comune di Arezzo, da parte sua, metterà a disposizione fondi in via bicchieraia da destinare le attività commerciali del settore, utile a richiamare ad Arezzo turisti intenzionati ad unire cultura e shopping di qualità. Costo dell'operazione è circa 600 mila euro, con la fondamentale azione della Regione Toscana. Alla presentazione del progetto erano presenti infatti gli assessori regionali, Sara Nocentini e Vincenzo Ceccarelli. Le aziende, le istituzioni si uniscono per valorizzare una peculiarità, per sottolineare che l'oro è per Arezzo un'attività che ha dato ricchezza in passato, che la sta dando anche adesso, ma che vuole essere lanciata anche nel futuro. Noi vogliamo che con il Palazzo delle Esposizioni Orafe, dove ci saranno le grandi collezioni orafe a retine, e il via della bicchieraia, dove sarà l'outlet dell'oro, il turismo si renda conto di essere nel distretto europeo più importante dell'orificeria. Da uno studio di Confindustria risulta che nei prossimi anni ci saranno centinaia di milioni di nuovi ricchi in paesi emergenti, di una nuova classe benestante, affamata di nostri prodotti. Noi imprenditori siamo molto determinati a conquistare questi nuovi mercati, ma anche portare il turismo qui a Arezzo, perché si verrà Arezzo non solo per Piero della Francesca, ma anche per l'oro.